L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcol, nuove droghe, aggressività e violenza, di Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, e di Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio Nazionale per la tutela dei minori della CEI. A nome di tutti i commissari do il benvenuto ai nostri ospiti, che ringrazio per la disponibilità ad intervenire all'odierna seduta, e do quindi la parola a Don Riccardo Pincerato. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito che ci è stato rivolto questa mattina. L'Italia sta affrontando un aumento significativo dell'uso di droghe, in particolare nel mondo giovanile. Secondo i dati dell'ESPAD, l'European School Survey Project and Alcohol and Other Drugs, riportati nella federazione italiana delle comunità terapeutiche, la FICT, circa un terzo dei giovani in età scolare tra i 15 e i 19 anni, ha dichiarato di aver usato sostanza illegale almeno una volta. Inoltre la rete dei servizi FICT segnala che i numeri reali potrebbero essere ancora più elevati con casi di dipendenza, osservati già a partire dai 12-13 anni. Circa il consumo di sostanze illegali nel nostro Paese, il 28% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni, cioè quelli che frequentano le scuole superiori, usa o usato sostanze stupefacenti. Nel 2021 era poco più del 18%. Il primo uso avviene solitamente tra i 13 e i 17 anni e nel 2020 era tra i 14 e i 18. Aumenta la percentuale di coloro che l'hanno utilizzata per la prima volta a 14 anni o meno, dato che passa dal 27% nel 2018 al 33% nel 2022. C'è un forte ritorno all'uso dell'eroina. 320.000 ragazzi hanno fumato, sniffato, si sono iniettati il derivato dell'oppio. Non indifferenti i dati del consumo di sostanze legali, sempre dalla fonte e dal rapporto ESPAD del 2023. 780.000, cioè il 33% della popolazione studentesca, gli studenti che hanno fatto binge drinking, cioè la buffata alcolica. 460.000, cioè pari al 19%, gli studenti che hanno fatto uso nella vita di psicofarmaci. Vi vorrei sottolineare e portare una particolare attenzione alla dipendenza di genere. Le ragazze hanno raggiunto e superato i colleghi maschi. Se tradizionalmente sono per lo più i ragazzi a utilizzare sostanze psicoattive, negli ultimi anni si sta assistendo a un importante cambiamento dei modelli di consumo fra gli studenti, supportato da una sempre più evidente riduzione delle differenze di genere. Il dato più rilevante è quello osservato fra le studentesse di 15 e 16 anni che presentano prevalenze di consumo uguali o superiore ai coetanei per quanto riguarda l'uso di cannabinoidi, NPS, cocaina e opiacei. Il 2022 ha fatto inoltre registrare il sorpasso dei consumi femminili su quelli maschili per quanto riguarda l'utilizzo di tabacco e gli eccessi alcolici, dato che si va a sommare al consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica da sempre appannaggio tipicamente femminile. A conferma della precocità femminile nell'approccio alle sostanze, anche gli accessi al pronto soccorso, droga correlati, che pur essendo in numeri assoluti quasi la metà di quelli maschili, vedono maggiormente coinvolte le giovani under 17, che presentano il 13% degli accessi contro il 7% nella stessa fascia di età fra i ragazzi. Accessi per il 65% dei casi legati a psicosi indotte da droghe. Il dato maschile della medesima diagnosi è pari al 44%. Alcune cause dell'aumento dell'uso delle sostanze. Diversi fattori contribuiscono a questo aumento. In Italia, uno, il malessere psicosociale. La pandemia di Covid-19 ha esacerbato le fragilità psicologiche e sociali, portando ad un aumento dei disturbi mentali e di conseguenza l'uso di sostanze come meccanismo di coping. L'OMS ha certificato una chiara correlazione tra salute mentale e dipendenze, dividenziando un aumento delle malattie mentali e neurologiche globalmente. I ragazzi tra i 15-19 anni che fanno uso di sostanze illegali si avvicinano al milione, ma quello che più impressiona è che accanto alle sostanze classiche sono in aumento altre sostanze che accompagnano la vita degli adolescenti. La pandemia ha accelerato l'uso di psicofarmaci senza prescrizione, per sentirsi meglio, riferiscono i ragazzi. Alcuni ne fanno uso per dimagrire, altri per avere una situazione di serenità, ma esistono pure i ragazzi che assumono stimolanti per migliorare il rendimento scolastico. Secondo i dati del FICT, tra gli studenti che hanno assunto psicofarmaci senza la prescrizione medica nel 2022, il 48% li ha reperiti a casa propria, il 27% su internet, il 20% a casa di amici, il 18% si è rivolto al mercato della strada, il 13% a uno spacciatore. Seguono poi manifestazioni pubbliche come reviparty e concerti nei pressi della scuola, in luoghi pubblici, quali discoteche e bar. Nel 2022 tra le motivazioni più comunemente riferite dei consumatori psicofarmaci si trova allo stare meglio con se stessi, indipendentemente dalla tipologia di farmaco considerata. Ci sono dei cambiamenti socio-economici e culturali in atto che hanno portato ad un aumento delle case sostanze. In modo particolare la società italiana ha vissuto un processo di normalizzazione dei comportamenti devianti e additivi. L'uso di sostanze non è più percepito come un comportamento antisociale, ma in alcuni casi è considerato un marker di successo sociale. L'abbassamento dell'età del primo utilizzo delle sostanze spesso tra i 14 e i 18 anni e il coinvolgimento crescente di giovani sotto i 14 nello spaccio di droga a causa della loro non imputabilità. Sono segnali preoccupanti di una tendenza culturale che vede le droghe sempre più integrate nella vita quotidiana dei giovani. Un terzo elemento è l'accessibilità e varietà delle sostanze. La facilità di accesso alle droghe anche attraverso i mercati virtuali. Durante la pandemia si sono scoperte piazze di spaccio virtuali accessibili da casa senza il controllo in particolare dei genitori. Quindi la dipendenza non assume più una dimensione sociale, ma personale e intima. Dopo la pandemia ritornano le piazze fisiche di spaccio, ma restano attive anche le piazze virtuali. E la disponibilità di una vasta gamma di sostanze a basso costo hanno reso più facile per i giovani sperimentare e consumare droghe. L'aumento del consumo di cannabinoidi, psicostimolanti, nuove sostanze psicoattive e cocaina indica una diversificazione delle sostanze utilizzate dai giovani italiani. Quarto elemento è la difficoltà del sistema dei servizi. Il sistema dei servizi italiani fatica a intergettare e gestire efficacemente la grande maggioranza dei nuovi consumatori. In molte regioni, in particolare nel centro-sud, c'è una mancanza di servizi adeguati per i minori con problemi di dipendenza e psichiatrici. E infine circa le politiche di prevenzione e educazione rispetto alle persone più fragili. E sono fragili. Le politiche di prevenzione ai percorsi educativi attuali sono spesso insufficienti o mal strutturati. È necessaria una revisione profonda dell'intero sistema educativo e un maggiore investimento in percorsi preventivi fin dalla prima infanzia. Occorre ripensare al modello educativo di intervento proiettando sul futuro e non fondandolo esclusivamente sull'esigente, pure importanti del qui ed ora, improntando i percorsi educativi e preventivi sull'aspirazione di futuro e non sulla cura di fallimento. La prevenzione dovrebbe iniziare con il conveggimento delle famiglie e delle comunità locali, per creare un ambiente di supporto e un'educazione continua. È necessario promuovere un modello di intervento che coinvolga comunità locali, famiglie, scuole, parrocchie e altre agenzie educative per creare un supporto integrato e continuo. La salute e il benessere sono una responsabilità collettiva. E infine una ricerca e monitoraggio. Una potenziata ricerca e monitoraggio sull'uso delle droghe per avere dati aggiornati e accurati possono aiutare a guidare le politiche e gli interventi. La situazione dell'uso delle droghe in Italia richiede una risposta articolata e multidimensionale. È quindi fondamentale intervenire non solo sulla riduzione dell'offerta di sostanze, ma soprattutto sulla riduzione della domanda attraverso politiche educative e preventive efficaci, attraverso il conveggimento attivo delle comunità civili e delle realtà ecclesiali e del rafforzamento dei servizi di supporto e trattamento per i giovani. Grazie e buon lavoro. Ringrazio Don Riccardo Pincenato per il suo intervento e do ora la parola ad Emanuela Vinai. Buongiorno e grazie per averci invitato in questa audizione. L'adolescenza è caratterizzata da un'elevata vulnerabilità psicosociale. È un momento specifico dello sviluppo dei giovani impegnati in un'ampia esplorazione personale e interpersonale per comprendere se stessi, le persone che li circondano e il loro mondo sociale. Contemporaneamente durante l'adolescenza si verificano molti cambiamenti fisici, comportamentali e cognitivi che non sempre i ragazzi riescono a maneggiare. Per questo mettere in atto comportamenti a rischio o fare uso smodato di alcol o droghe è comune ed è spesso associato al coinvolgimento in atti e condotte illecite. Questi comportamenti nella maggior parte dei casi descrivono una forma di disagio. L'adolescente infatti può comunicare sentimenti di rabbia, paura, solitudine e può manifestare comportamenti internalizzanti come l'abuso di sostanze o esternalizzanti come azioni illecite e aggressive contro persone o cose. Parafrasando il titolo di un celebre film potremmo definirli ragazzi interrotti. Già da anni la letteratura scientifica evidenzia che i comportamenti a rischio possono contribuire a costruire l'immagine di sé dell'adolescente. Pertanto se gli adolescenti ricevono rinforzi positivi riguardo alla delinquenza, al comportamento antisociale o all'abuso di droghe è più probabile che mantengano questi atteggiamenti anche in età adulta. A questo si aggiunga che l'OMS indica come fattori di rischio famiglie isolate dal contesto sociale, difficoltà economiche e lavorative, disoccupazione, emarginazione sociale, immigrazione e precari spazi abitativi. Per verificare come questo incida nella nostra società nello specifico e come il disagio sia stato esacerbato dalla pandemia Covid-19 è sufficiente consultare l'analisi di Caritas, Istat e Open Police. Il report Criminalità minorile in Italia 2010-2022, curato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale nell'ottobre 2023, dimostra che nel nostro Paese i crimini commessi da minori sono cresciuti del 15,34% dal 2010 a oggi. In particolare, le restrizioni post-Covid e la crisi economica sembra che negli ultimi anni abbiano aver favorito focolai di tensione fra i ragazzi. Fra il 2021 e il 2022 i dati mostrano una crescita evidente delle segnalazioni per minaccia, più 33%, per rissa, 57%, per percosse, 35%. Da segnalare anche le rilevazioni sulle segnalazioni per violenza sessuale, che aumentano del 6,59% nei 12 anni presi in esame, per omicidio volontario, consumato e tentato, più 18%, da 95 segnalazioni nel 2010 a 113 nel 2022. Al di là delle cifre, il report ci consegna un'affermazione drammatica che deve far scattare un livello di attenzione ancora più alto sul fenomeno. I crimini avvengono con episodi che dimostrano la totale assenza di empatia nei confronti della vittima. E questa è una considerazione dirompente che vede una conferma in fin troppi fatti di cronaca, soprattutto legati ad aggressione a sfondo sessuale, in cui i minori sono protagonisti in negativo e che non può non interrogarci come adulti e come agenzie educative. Il venir meno dell'empatia nei confronti delle vittime, in senso più ampio del prossimo in generale, segnala un'anestetizzazione diffusa delle coscienze e uno sdoppiamento della percezione, quasi come fosse qualcun altro a commettere il crimine, un alter ego da videogame. Lo ha spiegato con efficacia Ciro Cascone, già procuratore capo del Tribunale dei minorenni di Milano. Un fenomeno trasversale, l'adolescente che compie la violenza dopo torna a essere il classico bravo ragazzo che tutti conoscevano. Il giovane che i contesti di gruppo arriva facilmente a consumare la violenza sessuale, con la stessa facilità ne prende le distanze, con un'incapacità di avere consapevolezza delle proprie azioni e di essere empatico con la vittima, di rendersi conto della sofferenza altrui. I ragazzi credono che tutto sia possibile, che tutto sia facile e lecito. Alla base vi è un'incapacità di gestione delle relazioni umane, con un approccio sbagliato e disfunzionale. Una prevenzione sistemica di queste problematiche non ha una risposta univoca, né una soluzione pret-à-porter, ma prevede un'azione sinergica e multidisciplinare, costante nel tempo, da parte di tutti i soggetti in campo, famiglia, scuola, società civile, chiesa. La Chiesa Cattolica in Italia, attraverso il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Italiana, ha avviato da tempo un rinnovamento di sguardo e di cultura per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto di ogni tipo di abuso. In quest'ottica è stata strutturata sul territorio una rete capillare di centri di ascolto. Sono 108, diffusi in tutta Italia, e afferiscono alle singole diocesi, oppure a diocesi più piccole, che abbiano unito risorse e professionalità specifiche. Tali centri, pur essendo dedicati alla ricezione di segnalazioni di abusi avvenuti in ambito ecclesastico, tuttavia, per il loro radicamento territoriale, rappresentano un valido punto di osservazione di quanto avviene nella società e offrono un'ulteriore fotografia di un disagio che fende trasversalmente le comunità. Infatti, secondo i dati che abbiamo raccolto attraverso la seconda rilevazione sull'attività dei servizi territoriali di tutela minore e adulti vulnerabili, il numero di contatti ai centri di ascolto è cresciuto esponenzialmente, passando dai 38 del 2020 ai 374 del 2022. Nella gran parte dei casi contanti sono stati telefonici, 84-4%, da parte di non vittime, 87-7%, e il motivo prevalente, quasi l'82%, è stato per chiedere informazioni. Di fatto, non solo molte volte i centri sono l'unico presidio di ascolto e accoglienza presente, ma laddove si sono messi in rete con enti pubblici e servizi sociali, forniscono informazioni utili a chi vuole segnalare un abuso in ambito familiare, sportivo o scolastico, ma non sa a chi rivolgersi con quale modalità. I centri di ascolto, quindi, nella loro missione pastorale, svolgono una funzione di rete di safeguarding, luoghi in cui intercettare un disagio sociale, che significa arrestare la sua evoluzione in trauma umano e reato con possibili abusi fisici, maltrattamenti, trascuratezza e abusi sessuali. Gli operatori sono formati per intercettare segnali di possibili abusi in un ambiente ecclesiale e promuovere ambienti sicuri, ma hanno anche il know-how per comprendere segnali di fatti accaduti altrove e che vedono i minori vittime. Tale azione si situa nella logica dell'alleanza sistemica preventiva per cui i minori sono custoditi in ogni ambiente e le buone prassi adottate in uno a catena si ripercuotono sugli altri o spezzano una catena di vittimizzazione, evitando che l'abuso si ripeta in più luoghi sotto forme diverse. Non solo, accompagnare le vittime e offrire loro percorsi di cura e guarigione dal trauma subito significa anche contribuire a ridurre il rischio di nuovi abusi che vedono la vittima trasformarsi in carnefice. Questo impegno condiviso è frutto della concretizzazione delle linee guida per la tutela dei minori elaborate dalla Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana Superiori Maggiori, che prevedono specificamente un'apertura della Chiesa alla promozione di una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso, di una cultura della cura e della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in dialogo e confronto coraggioso con università, servizi sociali, enti locali e associazioni di volontariato. E ancora, la Chiesa vuole promuovere un clima culturale e progetti formativi volti a costruire una società più giusta, a partire della comunità credente, dove ogni persona abbia il diritto di vivere in un contesto depurato da ogni genere di copertura e collusione con forme di violenza e soppruso. In tale spirito si inserisce la collaborazione con l'autorità civile nel rispetto della reciproca autonomia della normativa canonica, civile e concordataria. Essa trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia. In un clima di dialogo e confronto, la collaborazione, la stima e la fiducia reciproca possono far progredire verso un mondo più sicuro per tutti. In termini di prevenzione, pertanto, è essenziale poter intercettare il più precocemente possibile i giovani vulnerabili e le situazioni a rischio dentro i loro contesti di vita. Per farlo efficacemente è essenziale agire a più livelli, concorrendo, Chiesa e Stato insieme, a investire nelle risorse formali e informali che costituiscono la rete sociale dei nostri territori e che possono e devono essere luoghi di ascolto autentico e sicura prossimità. Grazie. Ringrazio Emanuela Vinai per il suo intervento e chiedo ai colleghi presenti, nonché a quelli collegati in videoconferenza, se intendono intervenire per porre domande o formulare osservazioni. Ecco, la senatrice Simona. Grazie Presidente, intanto grazie per questi vostri interventi. La mia è una domanda di natura pragmatica perché voi ci avete fatto un quadro che corrisponde al quadro che anche altri esperti di altri mondi ci hanno presentato. Ci sono però delle buone pratiche in giro per l'Italia di legami, di cosiddetti patti di comunità tra tutti gli enti, le agenzie educative di un singolo territorio. Io vengo dall'Interland milanese, conosco la realtà milanese e durante il periodo del post-covid, il primo post-covid, sono stati creati insieme alla FOM e quindi agli oratori abbiamo questa grande ricchezza nel nord, cioè in tutta Italia però con una capillarità nel milanese, quindi anche con Don Stefano Guidi, di far partire questi patti di comunità che vedevano uniti i municipi e quindi l'esperienza territoriale e le scuole. È chiaro che questi patti poi nascono sulla buona volontà delle agenzie educative del territorio, spesso con risorse che non riescono a essere costanti nel tempo e soprattutto nascono dallo spirito vocazionale delle persone che magicamente si ritrovano in uno stesso contesto e che decidono di mettersi insieme. La mia domanda è quanto una possibilità di normare queste esperienze, quindi oratori, scuole, ente locale e tutte le altre agenzie, possa essere veramente efficace mantenendo sempre quell'autonomia che risponde alla capacità che ogni singolo territorio può mettere in atto nel risolvere le questioni. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è in che modo, io credo molto nel sistema paritario, perché ritengo che sia parte di una legge dello Stato e come tale vada tutelato, in che modo si può far passare il messaggio che la scuola paritaria è uno strumento utile alle famiglie e alla società per costruire un'alleanza educativa più forte, non è semplicemente un progetto che riguarda magari le famiglie che se lo possono permettere. Grazie. Allora, vedo che ha chiesto la parola anche la senatrice Mennoni, videocollegata, e quindi prendiamo anche le sue osservazioni e domande. Prego. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto vorrei ringraziare moltissimo per la relazione che è stata effettuata, per le relazioni che sono state svolte, perché sono estremamente chiare e purtroppo appunto fotografo in una situazione, come è stato poi peraltro detto, assolutamente drammatica, che ha accresciuto la sua drammaticità durante la fase del Covid. Io stessa ho tre figlie, devo dire che ho vissuto in modo piuttosto preoccupato, soprattutto quel periodo, e ancora oggi avverto che vi sono state delle trasformazioni, direi, epocali rispetto a quella che è stata la formazione, soprattutto del ragazzo che all'epoca era adolescente e appunto aveva quindici anni, quindi si stava cominciando ad approcciare a quella che è la socialità assoluta, invece si è ritrovato chiuso in casa con tutto quello che tutti noi abbiamo vissuto in quella fase. Dunque, sono lieta di vedere che vi è anche la onorevole Madia collegata. Noi stiamo cercando di fare un lavoro che abbiamo, diciamo, proposto e che vuole essere un contributo per la Commissione tutta eh relativamente ad un disegno di legge che è stato firmato ehm da la Commissione Infanzia Adolescenza per cercare di ridurre l'accessibilità dei ragazzi troppo giovani ai social media perché riteniamo che sicuramente quello dei social media possa essere un elemento di rimente ehm questi ragazzini spesso sono ore ed ore, l'Istat ci ha detto che intorno ai sedici anni addirittura spesso trascurano una media di sette, otto ore, una giornata lavorativa davanti a questi social media che oggi hanno eh dei controlli assolutamente scarsi ed è il motivo per il quale stiamo proponendo una serie di interventi che riguardano i baby influencer, che riguardano l'implementazione di servizi quali possono essere il telefono azzurro eh per cercare di richiamare comunque l'attenzione ehm io direi anche delle famiglie logicamente su eh l'importanza di questo eh fenomeno ehm qualche tempo fa è stato presentato un emendamento e quindi ecco mi piacerebbe sapere se vi è la volontà di di collaborare insomma su questa iniziativa eh legislativa che spero possa fare un percorso il più possibile rapido a breve poi peraltro partirà l'indagine conoscitiva sui ragazzi, sui minorenni e social media proprio in seno alla commissione bicamerale infanzia e adolescente. Vi è poi il tema eh della cannabis light eh recentemente vi è stato un emendamento sul quale si sono eh diciamo aperte grandissime discussioni che è stato presentato in merito al decreto sicurezza alla camera dei deputati eh per di fatto ridurre eh la possibilità di acquistare al dettaglio questa cannabis light che pur avendo un THC eh limitato e ridotto eh da parte di organismi scientifici quali ehm il Consiglio Superiore di Sanità è stato ritenuto comunque eh un elemento eh di pericolo perché può poi indurre ad una forma di dipendenza e e quindi anche su questo insomma eh mi farebbe piacere ascoltare delle valutazioni sappiamo che la legge poi del duemilasedici che riguardava i la cannabis non faceva riferimento alla vendita al dettaglio diciamo eh della stessa. Ehm e infine eh ho ascoltato con interesse la senatrice Malpezzi eh peraltro eh firmataria insieme a noi di quel disegno di legge di cui parlavo sui social e eh la sua eh giusta osservazione in merito alle scuole paritarie eh e quindi ecco mi chiedo se è stato fatto presente per esempio al sindaco Gualtieri che è il sindaco di Roma della capitale d'Italia che nella città eh capitale d'Italia dal duemilaventitré è stata hm diciamo posta la limu su eh le strutture scolastiche che è sempre stata evitata fino ad oggi e che invece indubbiamente sta eh procurando un problema enorme perché sono a conoscenze sono state eletta nel collegio di Roma sono la senatrice eletta proprio nel collegio di Roma centro per per chiarirci e ahimè eh sono moltissime le scuole che stanno chiudendo nel vero senso della parola me ne viene in mente una per esempio quella di sua Paola che era nella zona di Roma Nord e moltissime altre perché non riescono a pagare delle imu estremamente elevate si parla anche di cifre che oscillano tra i duecento e trecentomila euro annui e quindi ecco ehm anche lì eh mi rendo conto che è una valutazione che non può essere svolta da chi adesso è udito in commissione parlo forse di più ai colleghi che possono incidere ma magari più di quanto non lo possa fare io eh su ehm eh quella che è la politica anche locale e degli enti locali che ha una valenza però fondamentale nella concretezza del quotidiano vivere quindi se noi siamo tutti concordi e mi sembra di sì perché ho sentito un un invito eh appassionato ehm da parte eh appunto della senatrice Malpezzi eh valutiamo insieme se non sia utile eh andare a cercare di incidere su questo elemento fondamentale perché è chiaro che se la scuola paritaria eh deve sobbarcarsi una spesa di tal guisa è evidente che poi dovrebbe elevare talmente tanto la retta scolastica che non si può andare assolutamente a favore di quelle che possono essere delle fasce sociali più svantaggiate che invece sono quelle che dovrebbero maggiormente poter fluire di questo servizio così importante perché non limita l'attenzione a quella che è la formazione didattica e scolastica ma sicuramente è un elemento di accrescimento di quella che è l'attenzione rivolta alla formazione eh dell'individuo a quelle che sono le sue fragilità in quest'epoca quindi grazie per l'attenzione e per quello che è fatto. Do la parola agli auditi per replicare ai quesiti posti. Circa il patto educativo che veniva richiesto credo che la fatica più eh più grande sia riconoscere ehm una una doppia strada eh l'oratorio di fatto e l'oratorio di diritto eh l'oratorio di diritto perché in Italia eh abbiamo appunto tutta una serie di oratori eh che sono di diritto appunto e quindi possono avere come lei citava la una struttura organizzativa alle spalle che permette quindi anche un interscambio no? Lei citava la FOM che è tipicamente lombarda come esperienza eh ci spostiamo già in regioni limitrofe sempre del nord Italia dove anche l'esperienza di oratorio come nomenclatura c'è ci sono anche gli oratori di fatto ma non hanno una rete di servizio così come è impostata in Lombardia e e questo quindi può creare delle difficoltà di di dialogo no? Per far sì che questo dialogo avvenga tra istituzioni. Ancora più complesso è nel momento in cui andiamo a guardare il resto del panorama italiano in cui esistono esperienze di oratorio di fatto e quindi non di diritto cioè esperienze di oratorialità cioè persone anche adulti persone anche competenti che si mettono insieme nel proprio territorio per cercare di rendere un servizio ma che non hanno o la struttura fisica quindi praticamente parlando di muri nel quale poter vivere un'esperienza di oratorio o manca anche la struttura associativa piuttosto che perciò ci permette di riconoscere no? E quindi di andare a sottoscrivere questo tipo di patto cioè il tema è che a livello anche ecclesiale l'oratorio o l'esperienza oratoriale è diffusa però dobbiamo trovare un sistema per riconoscere anche quelli che non sono diciamo così ingabbiati in una in una gabbia di diritto ecco che ha anche i suoi effetti chiaramente positivi. Questo per dire che però la possibilità c'è il desiderio c'è la possibilità e di sicuro un patto educativo che ci permette di mettere insieme queste alleanze di sicuro può fare molto bene nei nostri territori. Per quanto riguarda la questione dei social media e anche qui è evidente che ci sono persone più competenti rispetto al tema però mi permetto di di dare questo questo sguardo. Ho l'impressione che non possiamo andare a mistificare lo strumento perché di per sé lo strumento non è né buono né cattivo ma quanto piuttosto il valore che noi diamo allo strumento e quindi la questione è da una parte possiamo far partire dei percorsi educativi per i nostri ragazzi per i nostri bambini per i nostri giovani certo ma quello che forse può avere più valore è come educare noi adulti al valore che diamo allo strumento e quindi al valore che dopodiché riportiamo all'interno delle nostre delle nostre realtà sostanzialmente quindi lo strumento sia social sia l'uso dello strumento in sé di per sé ho l'impressione che dovremmo investire sul mondo degli adulti in modo tale che il ferrari che diamo in mano ai nostri ragazzi possono avere una patente per poterla guidare ma su questo noi per primo forse noi adulti siamo un po' timidi nel senso che a volte sono i nostri ragazzi stessi che ci educano e ci dicono come entrare in quelle realtà e quindi ci troviamo un po' sguarniti di fronte a queste situazioni e riguardo al problema della cannabis light e al tema dell'acquisto credo che la cosa che più preoccupa è la privatizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti che possono essere light o non light abbiamo sentito che possono essere legali o illegali ma la questione è che siamo ritornati a fare abuso o abuso di sostanze nel proprio privato nel proprio intimo e questa cosa è più preoccupante non è più una dimensione sociale è una questione che è entrata nelle case e quindi com'è che possiamo sostenere oppure bloccare o accompagnare in modo tale che in realtà un ragazzo che fa uso anche di queste sostanze si senta tra virgolette visto accompagnato sostenuto anche nella propria casa nella propria camera perché in realtà l'accesso è anche attraverso l'internet sulla scuola paritaria lo raccolgo e lo porto a casa perché possa essere un materiale di dibattito anche all'interno della conferenza episcopale per ringraziare i nostri ospiti per la loro partecipazione all'odierna seduta dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione presentata sia legata al resoconto stenografico della seduta odierna grazie